La sparchiosi continua la sua striscia di imbattibilità, stiamo battendo con il punteggio di 6 a 2 il team Moscheri, siamo con il capitano infantino, una prestazione veramente molto buona, non avete subito grossi pericoli, avete il primo tempo dominato, il secondo magari tranquillamente gestito il risultato. Loro erano una buona squadra, coreacea, a centro campo avevano anche qualche individualità tecnicamente molto valida, ma noi siamo riusciti a domarli sin dal primo minuto, siamo entrati in campo molto determinati, molto concentrati, un gruppo molto amalgamato il nostro, a differenza anche forse dell'anno scorso, quando si gioca di squadra tutti per la vittoria il risultato si è visto, infatti non abbiamo avuto alla fin fine grosse difficoltà nel portare a casa i tre punti. Avete rispetto alla partita pareggiata con l'avvocato, avete recuperato Ardizzone, Piuma e un nuovo innesto Arena, quindi una squadra molto offensiva, gli avversari hanno avuto scampo. Sì, la Sparchiosi, la Sparcalcio si basa comunque su un gioco molto offensivo, certo venendo a mancare gli attaccanti di ruolo come è successo contro gli avvocati abbiamo sofferto, nonostante il risultato fosse stato di 5 a 5, il reparto offensivo era mancante e questo si è visto. Oggi eravamo al completo, agli ottimi Piuma, migliori in campo è Ardizzone, si è aggiunto Arena che può essere veramente il valore aggiunto della nostra compagine. Comunque, ripeto, tutti e tre possono coesistere, possono giocare assieme, l'importante è giocare uniti, cercandosi l'uno con l'altro e questo fa sì appunto che siamo primi nel girone con un buon margine di vantaggio. A questo punto, dopo quattro vittorie e un pareggio, il primo posto sembra assicurato, quanto meno il passaggio del turno sembra una questione, bisogna aspettare soltanto la matematica. Il passaggio del turno sembra messo in cassaforte, ma fino a quando non acquisiamo il risultato è meglio non proferir parola. Come diceva il buon Trapattoni, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, però effettivamente sì, siamo a buon punto. Per quanto riguarda il primato del girone, ci sono tanti ostacoli, soprattutto uno, la squadra di Italo Morino, che al completo sono una squadra veramente molto molto forte e che sicuramente ci daranno testa se è al completo. Ringraziamo Infantino e passiamo con l'uomo partita, Piuma, infatti dicevamo prima l'assenza nella gara pareggiata contro gli Avvocato, si è fatta sentire, appena sei tornato, due azioni pregevoli e il 100% di tiri, cioè due tiri e due gol, il 100% di realizzazione. Sì, sì, cerco di tirare solo quando sono veramente sicuro di far gol, poi quando un compagno è messo in posizione migliore, la passo a lui e andiamo a fare gol sicuro. Ti trovi meglio a giocare? In quale posizione? Doviste variare molto sia a destra che a sinistra, comunque sempre dietro di Tizone? Sì, mi trovo meglio partendo da dietro con una punta centrale, però essendo molti in avanti giriamo, quindi spesso tocca fare anche il centrale di centrocampo quando siamo sia io che Arena che Tizone in campo. Certo, però bisogna adattarsi in base al momento della partita. Vabbè, ringraziamo il nostro nuovo partita. Lina allo studio.